Ciao, sono Marina Catuogna, questo è il mio libricino. In questi giorni di prigionia immagino che sia capitato a tutti di bersi una tazza di tè. Per me è proprio una passione e uno stile di vita diciamo. Io ho fatto questo piccolo libricino con un po' di storia del tè e curiosità di vario tipo che riguardano il tè per avvicinare un po' tutti a questa bevanda ancora poco conosciuta in occidente. Inoltre c'è la possibilità di sperimentare qualche ricetta con il tè come ingrediente e non soltanto come supporto a dolci o d'urte, insomma di vedere il tè in modo un po' diverso. La mia passione per il tè è come nata? Vi leggo qualche pagina. Personalmente sono appassionata del tè in tutte le sue sfumature e ho nel tempo istruito sia la mente sia il palato per conoscere sempre di più in profondità questa pianta e le sue caratteristiche. La tazza di tè da bere durante il giorno non è una scelta da fare con leggerezza. Una tazza di tè sbagliata che non corrisponde alle mie esigenze del momento o fatta male o con velocità o con non curanza mi può cambiare completamente la giornata. È un po' come accade con le spezie, può ottenere effetti diversi a seconda della tipologia di tè che scegli. Trovo che ci sia in questa pianta qualcosa di quasi alchemico e magico. Ricordo piacevolmente un film greco, Un tocco di zenzero, del 2003, diretto da Tassos Baule Mentis, che evidenziava la madre era chiusa nelle spezie, nella cucina tradizionale greca. Allora, io faccio lo stesso con il tè. Trovo il tè giusto per qualsiasi malanno e qualsiasi stato d'animo. Se sono triste, se sono desiderosa di dolci, se ho voglia di purificazione, se ho bisogno di un tonico. Oppure mi capita anche di proporre e abbinare il tè alla persona che me lo chiede in quel momento, cercando di intuire che cosa sta cercando o di cosa ha bisogno. Si prendono decisioni importanti davanti alla tazza di tè, si studiano cose che richiedono concentrazione, si aprono le anime e si fanno confidenza attorno a una calda e fumante teiera. Una volta una signora nel mio negozio di tè mi chiese, «Seria, seria, lei ha mai seduto con il tè?». Su due piedi mi fece un po' sorridere, ma riflettendoci bene è proprio vero che attraverso il tè il suo rito sensuale si ama e si seduce. Era autunno quando questa incantevole signora entrò in negozio, ed era lei stessa vestita interamente dei colori di questa stagione, paschimina arancione di seta cotta, casacca marrone morbida e pantalone della stessa tonalità. Ricordo anche una collana appariscente di pietre dure o forse ambra, che le dava solennità e che indossava con disinvoltura. Anche la pettinatura aveva carattere. Era mora, con tanti capelli ormai bianchi, che le incorniciavano un po' il viso. Li portava sciolti, gonfi, un po' selvaggi. Non davano la sensazione di essere molto addomesticabili, probabilmente come questa arzilla signora. Cercava il tè Golden Yuna Black Special, un tè da meditazione ricco di gemme apicali, di colore dorato. Era molto esperta. Mentre cercavo quel tè in magazzino, lei letteralmente mi istruiva sulle sue proprietà bianifiche del tè, compreso il sopraccitato carattere afrodisiaco del rito del tè. Mi simulava a trovare la mia tazza, come se cercassi la mia vera identità. Il tono della voce era sereno e musicale. Uscita dal magazzino, con il tè richiesto, la signora era scomparsa. Andai alla porta, uscì per strada, guardai a destra, poi a sinistra, era completamente sparita. Non la vedi mai più. Quel giorno tornai a casa e iniziai a scrivere questo libro, sorseggiando il tè. È uno dei piccoli aneddoti che mi hanno portato a scoprire la magia di questa bevanda. Spero che anche voi vogliate trovare la vostra tazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.